Ben trovati! Salve a tutti! Quello che guardate è Living After War, la closet beta dell'ultimo prodotto alla playa. Fare il personaggio in questa closet beta è un'impresa italica, certo se è una closet beta avranno da migliorare, quello che volete, però prendiamo la scelta del server. Io non ho ancora parlato. Per scegliere il server non potete semplicemente premere start come vedete qui in basso. Fai vedere. Eh ma non si vede il cursor, non ce l'ho messo in registrazione. Eh ma se appare la finestra. Eh, questa così. Lo potete fare così, start? cart. Invece, perché dice che il cart non esiste. Dicevo io c'ho qui. Allora, prima selezionate i characters. Ci ho messo tipo dieci minuti. Cinque, dai cinque. Cinque. Ragazzi che mi fai sentire meno imbecille. No, figurati. Poi premete start e finalmente potete entrare Anchors. Adesso vi farò sicuro di fare una figura di merda e non partirà. Allora questo è un action MMO. Diciamo che adesso dopo che il successo di Vindix, Dragon Nest, diciamo c'è questa. Speriamo che non laghi. Allora lagga la schifo. Ma lagga sicuramente. Ho sei punti vita e vi assicuro che salgono con una lentezza. Inimmaginabile, davvero. Inimmaginabile è un complimento. Allora. Guardate adesso sono a otto. Ho preso quello che credo sia un DPS ranged. È detto come un mago. Sì, le classi bene o male sono quelle. Sì, mi ha fatto sorridere nella definizione delle classi perché dice praticamente un mago. Cioè fa tutta una pippa prima e poi mi scrive praticamente un mago. È per facilitare. Adesso cerchiamo di capire. Guarda che cosa lanci? Coriandoli in aria. Ah, poi vi faccio vedere come cammino. Ho le chiappe, cioè le gambe sono snodabili. Come quelle di Big Jim e di Barbie. Tipo le Barbie, esatto. Avete le chiappe fisse e sotto si muovono le gambe. Non è tutto un pezzo. Come le Barbie. Allora. Carter Station, Lan... Non so che cazzo sia LanPod. Ah, FriendMarket. Perché c'è uno shop di merda. Station. Che cos'è? Campominato. Sì, questo è Campominato. Non avevo una questa l'ultima volta che ho sloggato? E la prossima domanda? Dal tipo... Girati un po'. Aspetta. Qui? No. Girati proprio. Questa è la mappa. Sì. Ah, quest, vedi? Dov'è? Ho scritto quest. Ah. Non c'è niente. Selezione, selezione. Cerchiamo di cambiare. Adesso riparliamo con il tipo. Vediamo se lui ci dice guarda, è già la quest. No. No. Dove sono andato? Mi sembra è andato un po' lungo. Ma forse dove entrare? Quanto è una micella? No. No. Ti rimbalza il tipo, credo. Perfetto. Vuole poi vedere il tipo che mi rimbalza. Allora. Non vedete di dove andare. Quindi dove andiamo? Vedi, questa è una lunghissima cosa. Soprattutto non c'è nemmeno per vedere le quest. Forse non c'è... Ah, forse qui, vedi? Mi dà una quest a essa. Ah, eccolo là. Guarda, guarda. Ok, vado a parlare con lei. Ok, almeno ci va da solo. Sì, questo l'hanno messo. Avete il movimento WASD, quello delle freccette, perfino punto e clic. Beh, in questo almeno. La lag, la lag, vi arrangiate. Dobbiamo andare a parlare con qualcuno? Sì, diciamo che siamo già morti, quindi probabilmente non vedete una morte. Ah, sì, sì. Alla prima proprio. Primo tentativo, non vi dice nulla. Tu vuoi dire, eh, dovete uccidere dei tipi. Sì, sì, sì. Guarda, devi uccidere dei tipi, sono un miliardo. Ah, aspetta, aspetta. Questi punti vita li hai persi quando sei morto. Ah, e quindi non li recupero più? Sì, li stai recuperando. Guarda che ne sono 35 adesso. Eh, ci ho messo una vita. Ammazza, tutto sto tempo. Mi viene voglia di giocarci. Mi dà un'altra quest? Sì. Ah, ho fatto livello. Ok, fatto livello ti si è resettato tutto. Devo isolated pilgrims. Ok, dobbiamo ammazzare qualcuno, quindi. Sì. Perfetto. No, ha cocorito. Powered sta per pappagallo. Eh, infatti è cocorito. Pappagallo, verde, giallo. Tu non la conosci? Ah, ci sono quattro scelte in croce per la... Per il... No, questo è shamak. Per il personaggio. Ah, li dobbiamo salvare, forse. Ah, sì. Perché tu prima hai salvato il sanctum. Ah, ok. Ma forse deve ammazzare... Ah, l'omino che li... Ok, li liberi. Ma al solito non ho capito una mazza. Adesso provo a... No. Cocorito. Ah, questo credo sia vero. No, questo è un'erba. Ah, qui si punta e clicca e si spara. Vai. Adesso a provare. Amico, combatti con chi è più forte di te. Guarda, una coda. Sì, però poi... Poi parlo con lui e lo libero. Perché ti dice ancora 0 di 5. Prova a sparare a lui? Eccolo, eccolo. Aspetta, guarda. Guarda. Ah, ok, la barra. Allora, oggi bisogna che sparare a qualcuno. Basta che li libero così. Ok. Si capisce un cazzo. Intuitivo proprio. Scusa, come stai facendo a... A dirgli... Liberati. Come l'hai fatto prima? Eh, premo stabilità. Appare questa specie di cosa per cure. Per il tempo cerco di capire... Quali altri skill ho? Sai? Sono questo. Ah, bellissimo. Oh! Hai visto? A parte avere le gambe snodabili, i capelli blu, ma me li sono fatti io. Quella è una cosa positiva. Ah, personaggio, ripeto, il nuovo... No. Non si è avviato bene. No. C'è delle difficoltà. Ma. Ma. No, non... Non mi sta proprio troppo a convince. Vabbè, ci abbiamo giocato da 6 minuti. Che significa? Un gioco per farti continuare a giocare ti deve prendere dal primo secondo. Ecco, sei sembra stata razzista. Io. Così da per dire. 50 euro. Finisci. Un giorno anche voi saprete del canale... Ma per favore. Se vuoi ci si vuole su Twitter. Diciamo un sacco di cazzate interessanti. Interessanti non lo so, eh. Sono delle cazzate interessanti. Volevo fare uno stimo. Vedete cosa succede? A non essere buoni con me? Eh... Psss. E il gesto non l'hanno visto, il psss. Eh, lo so. Adesso corriamo allegramente. Ciao, cocorrito! Tra i poporiti. All'argo visuale. E anche loro sono un po'... Vabbè, raccontiamo un po' la storia mentre passiamo. La Terra... Sì, giusto per. ...è distrutta da un terribile conflitto. Una nave chiamata Tomorrow viene spedita su un altro pianeta. Cascari e i 5.000 abitanti di questa nave spaziale, i pellegrini, si dividono in due fazioni. Molto semplici. Molto semplice. Oh, ma ti danno solamente pozioni a te? Sì, le pozioni del merda che mi danno. Si chiamano... Pozioni del lano. Chi devi ammazzare? Gli sciamani. Gli sciaman hunter. No, perché i cocorrito mi sono simpatici. Ah, questo... Allard sta passando già dei sciaman hunter. Comunque laghi, eh. Sì, e non è per colpa mia. Eh, lo so. Ok, ho mirato fuoco. Adesso arrivano in 72? No. Non arriva solo lui? No, adesso... Non è molto chiaro, effettivamente. Però uno lo ammazzano, lo devo ammazzare i 10. Prova avvicinare la visuale. Perfetto. Dove va abbassare gli effetti? È possibile che con questa macchina debba abbassare gli effetti, cioè... Non è proprio pensabile. Ma dov'hai, oh? No, ma fa tutto a lui, eh. Ah? Ma sta lontana? Dove, sto toccando qualcosa? Guardami. Dove sta andando questa? Che cacchio ne so? Vi assicuro che sta facendo tutto in autonomia. Ok, sono morto. È per forza. Via, 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 via. No, no, sei morto. No, ancora no. Ancora no. Zero del 200. La morte in questo gioco è solo un problema apparente. Allora, visto che si lagga di merda, quelli mi continuano ad inseguire? Eh... No. Non lo so. Vengono quasi nella mia direzione, però. No? Siamo con il pellegrino? Vi assicuro che il pupazzo è abbastanza autonomo. Allora, io dico che dieci minuti di questa... Impassano, avanzano... E fa veramente cacare. Peccato, ne parlavano bene. Io non so di che cosa devono parlare bene. Il gioco lagga. Le spell non si capiscono. I pupazzi vanno da soli. Sì, succedono delle robe inarrabili. Se vi piace... Se proprio avete, che ne so... Matematica... Latino... Geometria... Geometria di compiti... Allora, potete giocare a questo perché la sofferenza vi assicuro è uguale. Cioè, provate la stessa sofferenza. Se invece non avete un cazzo da fare... State nella larga. Sì, è veramente orrendo. Decisamente. Signori, grazie. Cioè, non lo so se grazie. Ci vedete in grazia, abbiamo fatto vedere a merda. Oh, Gesù mio. Mi ci hanno pure invitato. Perché non mi hanno invitato a Diablo 3? Eh, non lo so. Per esempio. Brutti e cattivi. È una domanda. Brutti e cattivi tutti. Ciao. Ciao.